Da bambino mi tuffavo nei libri, sognavo luoghi irraggiungibili e immaginavo di fare un mestiere che combinasse insieme arte, viaggi e avventura. Forse era scritto che avrei fatto l'archeologo. Oriente è una parola che mi affascina. Mi basta sentirla e subito corro a fare lo zaino, perché l'Oriente è talmente vicino a casa nostra che neanche lo immaginiamo. Art Rider, venerdì alle 21.15 su Rai 5.